Punto con il nuovo video Un saluto Un saluto Un saluto Un saluto Abbiamo sempre tutto amore Aspirine, rosol, tutto rotto L'arrivo anche Sipi Era lì da Baselli Vengo che venervi a dire è veloce devi sperare che la stanga è gala passano la linea di galleggiamento dai girati che la mettiamo sullo schermo delle ragazze vieni com'è bravi brazie bravi per me una coppia si sta le maniglie no ma si fa a mie la maniglia il motore dove l'hai nascosto il motore dove l'hai nascosto il motore il motore terza e quinta due quarte e terza e quinta ah vale vieni qua vai è vero lì alle rapide di Pontevico la rapida furiosa è vero è vero mano va domani mattina chi vi aiuta no non ci arrangiamo vieni qua io sono 3 o 4 che bisogna le ha l'alor che la sede questa che era pintata vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua zavate Ciao! Hai visto? Sono matti. Io ho detto che è la prima tappa di Acremone usciti. La prima tappa di Acremone usciti. La prima tappa di Acremone usciti. Anche l'epoca di Acremone usciti. Un'epoca di Acremone usciti. Grazie a tutti.